Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido su Server 2 con un nuovo entusiasmante Partito? Si può dire partito? Di Airstone, una partita di Airstone Mi avete fatto notare Spak Tut, ma questo è un nome e un perché In effetti si, non lo posso più usare, lo dovrei cancellare e dovrei rifare il mazzo guerriero Perché non c'è più quella carta che mi piaceva tanto E che è il Wormade, 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 Wormade Wormade, Wormade, Wormade C'è qualche carta molto diversa dal solito Ma la vedremo insieme Oh, Jaina, Vagina, contro Uther, paladino della giustizia Ok, tolgo queste due carte che non mi servono a niente Mi serve il Tecno Ingegnere perché lo posso giocare subito Eeeh, Pirosfera, vi dice qualcosa, ma questa l'ho aggiunta io Mi ha salvato la vita molte volte Grazie Buttiamo su questo così lui si caga sotto e cerca di ammazzarmelo Solitamente funziona così E poi spero, incrocio le dita, che mi esca un fastidio bot O qualcosa di simile Vuole giocare due segreti? Vuole giocare un segreto Un segreto Eeeh, che cosa sarà mine? È il paladino dei segreti questo E quindi ce la togliamo subito di mezzo Nooo, ricresce con uno Ah, maledizione Ah, 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 ah Questa gliela devo togliere di mezzo per forza Perché dà un fastidio certe volte Beh, è andata piuttosto bene Uh, attenzione Scudo divino Si, è un secret paladin di quelli brutti Ma a noi ci interessa molto molto poco Perché gli andiamo sotto Con tre di danno Adesso lui, penso che ci vada a distruggere il nostro tecno ingegnere Attenzione, potrebbe cacciare gli arboscelli No Non li caccia Ragazzi, spacchettiamo Primo Prima busta Attenzione Epica Gigante di magma Niente di che Rara Vediamo che ci abbiamo Assalto mortale Infliggi quattro danni Se tu rara Si, ce l'ho Ce l'ho Fa vedere questo ce l'ho Distrugge un servitore casuale Va bene, il primo è andato Con una epica Ah, 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 ah Allora Io vado di Questo Ma devo andargli a togliere Per forza di cose Quel maghetto di merda Perché con le carte del secret paladin Quello È uno dei più forti In assoluto Una carta Che palle Dai, speriamo che mi esce qualcosa Ah, non mi hai ucciso Perché giustamente Lui sa che mi deve Tenere d'occhio Va bene Vediamo Vediamo cosa butti dopo Dai, che siamo a livello 5 Potresti buttare una bella carta L'importante è che non arriviamo a 6 Perché sul 6 Lui diventa molto pericoloso Su, buttami una Oh Uh Erroraccio da parte tua Erroraccio Loateb versus loateb Attenzione Attenzione Gli dico anche grazie Secondo spacchettamento Maestra del culto Ce l'ho Maestra del culo Portascudi Ce l'ho Lancia di ghiaccio Ce l'ho Pacificatore Aldo Ce l'ho Va a cagare E' un uomo di merda Allora Facciamo così E vai Su Ok Questo invece Rigenerà Uno di Rigenerà saluto al terror Pari ai danni inflitti Eccolo No Lo sapevo io Però solo 3 Allora Uno E' sicuramente Il difensore Di sta cippa di minchia E mo ve lo faccio vedere Sicuro Eccolo qua E a noi non ci interessa Vediamo un po' L'altro è il più 3 Il più 2 Sicuro Eccolo No Proprio a lui No E quest'altro Che cazzo E' più 1 Più 1 Alla fine Abbiamo una Gnomi vs zombie Quindi Via Pronti Che questa Secondo me E' la mano Più fortunata Proprio Mattarra Oh Greninja Ce l'ho Ce n'avevo uno Però Minibot Una merda Allora 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 Dobbiamo toglierli di mezzo Ah no No Potrebbe Potrebbe essere Una cosa Molto più brutta Vabbè Glielo togliamo Comunque di mezzo Ok Non è quella cosa brutta Ok Abbiamo Questo sarà sicuramente Più 1 Più 1 Il segreto No Che cazzo di segreto è Ah il segreto Che Se Se evoco qualcuno Lui ha Più 1 Un altro segreto Dai Mi rigenera Più 1 Intanto Ok Allora Vediamo un po' Il da farsi Questo mo' Gli torna Purtroppo Se io mo' Butto questo Io lo so Che cosa succede Che va uno Sapevo io E' un peccato Ragazzi E' un peccato Ma ormai lo sappiamo E' più 1 Più 1 a tutti Lui però Io credo che adesso Tenti di attaccarmi 3 4 5 6 7 8 9 Ok Basta Segreti Le avrà finiti Tenta di buttarmi a terra Qualsiasi cosa Ok Quello che non sa E' che io ho questo Solo che adesso Non lo posso Ancora usare Gran torneo Gran torneo Strabiliante Attrazione e combattimenti Come mai ne avete visti prima Rara Si ho capito Ne avete visti prima Si te ne devi andare Grido di battaglia Ottiene 1 Di attacco E carica 6 Un drago in mano Questa è simpatica Per chi usa i draghi Infusione demoniaca Più 3 Più 3 Più 3 È un demone Fornisce un cristallo Di mano All'avversario Tutte le classi Non c'è Una sega Questa la usa Nel druido Con l'aggro Vabbè Quindi Andiamo di Dr. Boom E via Ho sbagliato Potevo Buttargli la palla Addosso Perché lui Può cacciare Un'arma Più 4 Che ti rigenera 2 Ma credo Che sia finita Credo proprio Che lui Non abbia più Nulla da Da fare Lo chiuderemo Con una berra Pirosfera E faremo fare I fuochi artificiali Basta segreti Ah Non c'hai più segreti No Ce l'hai segreti Cazzo Però Tanto Questo non serve a niente Cioè Questo Non lo Blocca Il segreto Quindi Gliela facciamo Credere Gliela facciamo Credere Mano D'argento Questo che fa Che ne più Da quando Attenzione Attenzione Ci vuole provare Gliela facciamo Credere Oh Attenzione Attacco Gliela facciamo Credere Che la facciamo Credere Oh 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 Facciamo Credere Fino alla fine Guarda Adesso lui dice Ah Non mi può più Uccidere Oh Un pezzo Ciao 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 Ci hai creduto Fino alla fine Va bene È stata una bella partita Con il Mcmage Siamo sempre La prima stellina Del livello 15 Faccio avanti e dietro Avanti e dietro E ci vediamo al prossimo